Aggiungere le uova fresche e separare i tuorli e gli albumi Montare i tuorli con lo zucchero Montare i tuorli con uno sciroppo di zucchero a 121 gradi Montare le fruste fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso Abbassare la velocità delle fruste e aggiungere un cucchiaio alla volta Montare la crema al mascarpone Per montare gli albumi a neve, le fruste dello sbattitore devono essere perfettamente pulite All'interno della ciotola, con gli albumi, non ci deve essere traccia di tuorlo Montare i tuorli Aggiungere poco alla volta lo zucchero Montare gli albumi montati a neve Montare la crema di mascarpone Montare gli albumi montati alla crema di mascarpone La prima mescolata sarà energica, giusto per stemperare l'impasto Montare i tuorli con movimenti dal basso verso l'alto Con la crema è pronta, possiamo comporre il tiramisù Versare il caffè della Mocca in una ciotola e lo zucchero a piacere Montare la crema sul fondo della pirofila Montare la crema di mascarpone Montare i savoiardi Montare il primo strato Montare la crema di mascarpone Montare il tiramisù con i ciuffetti Montare la crema di mascarpone Montare i tuorli di poco Montare la crema di mascarpone Rassodiamo il tiravistube in frigorifero per almeno 2 ore Buonissimo! Buonissimo!